Oggi la riflessione da fare è una riflessione a 360 gradi, quella relativa al destino delle aree di risulta, quella relativa al trasporto pubblico di massa, immaginando che finalmente la strada parco possa essere utilizzata attraverso un sistema non più di palificazione elettrica ma attraverso un sistema di mobilità ibrida, ma tutto questo in un'ottica prospettica e futura di Grande Pescara. E quindi anche qui non soltanto condivisione con maggioranza, con sindaco, con giunta, ma anche confronto con i colleghi, con le amministrazioni dei comuni limitrofi di Montesilvano, di Spoltore, ma anche coinvolgendo dal mio punto di vista il sindaco di Francavilla, perché poi Pescara, al di là di quello che è il perimetro della Grande Pescara, e quindi l'implicazione di Pescara, Montesilvano e Spoltore va comunque anche ad avere dei riflessi su un altro comune importante, Limitrofo, che ricade tra l'altro in una provincia diversa che è Francavilla al mare. Senza perdere di vista le grandi infrastrutture di Pescara, perché per un decollo, e mai parola più adatta, può essere attribuita all'aeroporto d'Abruzzo, per un decollo effettivo dall'aeroporto d'Abruzzo noi dobbiamo immaginare anche un sistema di trasporto che sia moderno, che sia degno di una grande città, sia degno di un grande comprensorio, che è appunto quello futuro, quello che immaginiamo per gli anni futuri, per i prossimi 20-30 anni, che va a movimentare 200.000 residenti e io spero di arrivare anche per quanto riguarda l'aeroporto in prospettiva ai numeri ancora più importanti dei 600.000 passeggeri di oggi.